Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video in collaborazione con il gruppo di Facebook The Colors of YouTube. Per questo mese le amministratrici del gruppo Antonella e Azzurra hanno deciso di parlare per quanto riguarda la cura della nostra pelle e poi un profumo per quanto riguarda San Valentino. State attente per quanto riguarda l'ultima cosa che vi ho detto perché sicuramente non l'avete mai vista sul mio canale. Allora, per quanto riguarda la cura della nostra pelle, io vi faccio vedere delle maschere che a me piacciono tantissimo. Non vi faccio vedere altre cose perché mi interessano di più questo tipo di maschere, perché sono le cose che sto utilizzando tantissimo proprio in questo periodo. Allora, queste sono delle maschere per quanto riguarda l'Avon. Sapete tutti che Avon fa delle maschere veramente ottime. Questa è una maschera che, diciamo, dà il colore marroncino e dopo un po' diventa un beggiolino chiarissimo perché vi secca, diciamo, sulla pelle ed è molto buona perché mi aiuta tantissimo a scrabbare, diciamo, il viso. Questa qui mi piace, ma quella che mi piace di più e concordano anche i miei figli è quella con il tubetto bianco e le scritte azzurre che io ho già finito. Invece, questo qui, quest'altra tipo di maschera, questa è all'olio, all'olio d'oliva, se non mi sbaglio, sì, all'olio d'oliva del Mediterraneo e questa viene utilizzata per idratare tantissimo la pelle. Io questa la utilizzo con un simile aggeggio, tipo come Clarisonic, però io ce l'ho della Philips ed è ottimo, quella è una spazzola che ti aiuta, diciamo, a sfogliare il viso e io gli metto questa maschera e poi utilizzo la spazzola in tutto il viso. Mi piace tantissimo, infatti mi sono trovata bene e questo lo sto utilizzando proprio in questi giorni. Un'altra maschera che sto utilizzando, che è quasi nel finire, è la maschera all'argilla, questa qui verde, della L'Oreal. Vi faccio vedere, oltre che si vede anche da qua, ma ve la faccio vedere così, perché è quella che sto utilizzando tantissime, la sto utilizzando due o tre volte alla settimana, due volte alla settimana, diciamo così. L'ultima volta che l'ho utilizzata è stata domenica, mentre facevo il bagno, ovviamente. Io una volta ogni tanto mi lavo, come avete visto nei miei video all per quanto riguarda questo sapone. Allora, cosa ho fatto domenica? Mi sono sdraiata, bella l'acqua calda, che usciva il fumo dappertutto. Cosa ho fatto? Ho aspettato un pochettino che i miei bellissimi pori si aprivano e quindi ho utilizzato la maschera. Ovviamente, per togliere questa maschera io utilizzo o la spugnetta, la sponge, oppure direttamente con il Clarisonic, tipo bagno la testina e poi la passo su tutto il viso e tolgo la maschera. Ma questa volta, sul bordo, diciamo, della mia vasca, avevo un prodotto che avevo acquistato un paio di giorni prima a Lidl a Catania e sto parlando di questa spugnetta, che la vedete sporca perché è stata utilizzata di nuovo. Questa spugnetta diventa leggermente più grande da come voi la vedete nella scatolina. Non la posso prendere, mi viene male. Comunque è molto più grande dalla scatolina e ho utilizzato questa. L'ho bagnata con l'acqua calda, ovviamente, mentre la facevo uscire nella vasca. Ho bagnato con l'acqua calda, ho inserito le dita così, in questa posizione, e ho tolto tutta la maschera che c'era sul viso. Devo dire che era fantastica, veramente fantastica. Aprivo ovviamente l'acqua, la pulivo e la riutilizzavo. È ottima. Infatti io alla mia amica gli ho detto, per questo vi stavo dicendo che le avevo messe da parte, perché gli ho detto alla mia amica che la dovevo acquistare assolutamente anche lei, perché la sto facendo entrare nel gruppo delle maschere viso, e quindi gli ho detto di acquistare queste spugnette perché sono ottime per togliere tutto per quanto riguarda il viso, sia le maschere che anche altri prodotti. Ed è fantastica, veramente fantastica. Infatti l'ho presa sia per me che anche per i miei figli. Poi un altro prodotto per quanto riguarda il viso che vi faccio vedere è una cosa che io adoro, perché in un periodo di più in estate, devo dire la verità, ho utilizzato questo tipo di crema, che sarebbe questa, che è della saponaria ed è la crema viso mirtilla, che è un nutriente vellutante. Allora, questa crema io sono andata dall'erboristeria Scordia per prendere una crema perché il mio viso era arido, proprio secco, 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 che non riuscivo proprio nemmeno a sorridere, che mi si bloccava anche la mascella, proprio di come era secco. Ho chiesto alla ragazza di una crema che sia abbastanza ricca per la mia tipologia di pelle, e lei mi ha dato questa. Mi ha dato questo ed è veramente una crema ottima. costa sulle 20 euro, devo essere sincera, costa un bel po', ma devo dire che mi sono trovata benissimo, infatti questa è la seconda che acquisto, una ce l'ho sotto nel bagno e una è questa. Appena finisco queste, sinceramente, ho altri tipi di maschere, quindi non la riprenderò subito, ma aspetterò almeno di smaltirne alcune. Devo dire che è ottima. Io, ad esempio, quando faccio questo tipo di scrub sulla pelle, faccio questo tipo di maschere, quindi la mia pelle rimane abbastanza secca, ma liscia. La mia pelle, ovviamente, ha bisogno di nutrirsi, quindi aggiungo delle creme che siano molto, molto, molto idratanti. E questa è una di queste creme, veramente è fantastica e mi ci trovo benissimo, ve la consiglio tanto. In caso utilizzate o fatevi dare dei campioncini, la provate e se vi trovate bene, la acquistate. Io, specialmente in estate, mi ci trovo benissimo. Un prodotto che ho visto da tante ragazze di YouTube, specialmente le americane, erano dei panni, sarebbero questi. No, erano, sono questi. Allora, questa è una Clean Sponge. Questa spugnetta la potete acquistare sia su Amazon che su AliExpress. io l'ho acquistata su AliExpress e ne ho prese due confezioni. Se non mi sbaglio, ho preso le più grandi. In una confezione ce ne trovate tre, quindi ho preso due, sono sei. Ho preso sei di queste. Perché ho preso queste? Allora, primo, le utilizzo per togliere le maschere. È ottima, la bagnate, togliete la maschera e ciao. Secondo, è nella dimensione grande quanto è il mio viso, quindi per struccare è una meraviglia. Io la utilizzo per struccare. Ho struccato il make-up che ho fatto per quanto riguarda la collaborazione che ho fatto con il gruppo di Telegram per quanto riguarda la Befana Sexy. Quindi avevo un trucco abbastanza scuro e l'ho tolto tutto con questo. Cosa faccio? Prendo il panno, la spugna, la bagno con l'acqua calda, la strizzo e la passo sulla saponetta. faccio un po' di schiuma e tolgo tutto il make-up che ho sul viso, quindi fronte, guanciotte, occhi, la risciacquo, ripasso di nuovo la saponetta e ripasso di nuovo nei punti dove ho il make-up, quindi fondotinta, occhi, eccetera, eccetera. La risciacquo e finisco di togliere tutto il residuo del sapone sul viso. È fantastica. Di norma dice che può essere lavata in lavatrice, ma sinceramente dovete dirmi voi se vedete qualche traccia di make-up che è rimasto perché io sempre con l'acqua calda ho strofinato la saponetta, ho pulito proprio facendo questi movimenti la spugnetta, poi l'ho strizzata bene e con il suo gancetto che se riesco con le unghie ve lo apro, con il gancetto l'ho appesa al... lì nel bagno c'è una specie di appendino, l'ho appesa lì e l'ho fatta asciugare. Cioè, fantastica, veramente fantastica. Io prima di questo utilizzavo i panni quelli di Sephora che ho acquistato. L'ho acquistato sia da Sephora che da AliExpress che sarebbe il panno che adesso stanno vendendo a Lidl assieme a questo tipo di spugnette. Questa è fantastica. Cioè, io non cambierei assolutamente questo tipo di spugna con tutto il panno. Oltre che, diciamo, la potete anche tenere con l'appoggio di questo, no? E utilizzate, diciamo, fate tutta la pulizia e tutto. Ma anche il fatto stesso di tenerla così o tenerla così o togliere tipo il masca è fantastica. Cioè, il prodotto che mi ha cambiato veramente la pulizia del viso quindi il rimuovere il make-up è questa. C'è un piccolo aggeggino. Quel giorno mi ha fatto felice perché ero stanca, avevo mal di schiena e struccarmi in pochissimi secondi veramente è stata una goduria. Una goduria. Poi, per finire, per quanto riguarda questa collaborazione, lei dice di scusate ma sono sceccata, lei dice di mostrare un vostro profumo che consigliereste per il giorno di San Valentino. Allora, questo profumo non l'avete mai visto sul mio canale perché è nuovissimo. io lo sto utilizzando da un paio d'anni ed è questo qua. Ovviamente io questa cosa la sto dicendo soltanto per Antonella perché Antonella non essendo attenta lei non sa che tipo di profumo io utilizzo perché se io la interrogo ad Antonella lei non lo sa qual è il mio profumo preferito. E questo è il mio profumo e il profumo in assoluto di Stefania che sarei io adoro. Adoro. Io non posso nominarvi altri tipi di profumo. Mi dispiace. Non posso. Non riesco. Non è nelle mie non è nella mia indone. Io adoro questo profumo è Sophisticate ve lo ripeto è l'imitazione di Dolce & Gabbana della linea di Iodema. Io adoro tantissimo questa marca. Vi farò un video apposito perché sono sicura che volete saperne qualcosa di più. Niente io adoro 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 questo profumo quindi non posso che non consigliarvi il mio profumo preferito nonché unico profumo. Io per quanto riguarda questo video ho finito. Ringrazio tantissimo Antonella e Azzurra e tutte le altre ragazze che hanno partecipato a questa collaborazione. Ovviamente ovviamente io mi permetto di dirvi che dovete assolutamente andare a vedere tutti i video di tutte le ragazze che hanno partecipato perché sono tantissime ce ne sono alcune che sono ovviamente siciliane quindi io combatto per le siciliane sono delle bravissime persone sia Antonella che Azzurra che tutte le altre sono appassionata di profumo quindi in quel gruppo proprio delle appassionate è anche entrata la nostra Lizzi e quindi dobbiamo andare tutti con tanta voglia e tanta passione per vedere questi questi video perché veramente noi piccoli canali forse ci mettiamo più cuore più passione per quanto riguarda diciamo quelli più grandi che fanno che li fanno tanto per io vi ringrazio tantissimo vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi vanno ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao